Stefanie, buono, dice allora Domenica sera sono caduta, mi sono quasi rotta una gamba Devo sapere, devi sapere cosa? Perché ti sei rotta una gamba? Da cosa ti stava fermando? E poi quasi rotta una gamba? Che vuol dire? O te la sei rotta o non te la sei rotta Cioè ti sei fatta male una gamba Interessiamoci a perché te la sei rotta la tua gamba O quasi rotta E dove stavi andando? E dove stai andando? Cioè quale percorso stai facendo nella tua vita? Ricordatevi che è una gamba che si rompe O che comunque vi ferma Cioè la gamba Le gambe sono i nostri organi di movimento I nostri arti di movimento Quindi quelli che ci portano nel futuro Ricordatevi, braccia e mani presente Gambe, piedi, futuro Queste sono delle regole di base del nostro corpo E della nostra Della nostra, come possiamo chiamarla? Meccanica Boh, non lo so, ma devo inventare una parola Insomma è il modo E l'interpretazione Di ciò che accade su determinati arti Le gambe sono quelle che ci portano nel futuro Se le gambe si stroncano Quindi non ci permette di andare avanti Ciò vuol dire che la direzione che avevamo preso Probabilmente dovrebbe essere rivista Poi, ancora di più Che cosa ora non ti permette di fare Quella gamba semirotta? Non ti permette cosa? E cosa invece ancora ti permette di fare? Quali sono i vantaggi Dell'esserti rotta una gamba? Quali problemi risolve L'esserti rotta una gamba? Non so, magari hai più attenzioni Hai chi ti serve Hai chi ti accompagna Cosa che invece non accadeva prima Non lo so, bisogna sempre vedere questo Quindi la domanda sempre classica è Qual è il vantaggio in questa malattia O in questo disturbo O in questo incidente? Potreste non vederlo subito Ma vi garantisco che c'è sempre Ricordatevi che gli incidenti Le malattie, i sintomi Sono sempre una soluzione Soluzione, non un problema Il problema è dietro C'è un problema Dove la malattia o la rottura della gamba È la soluzione Quindi voi vedete la soluzione Dovete da lì capire qual è il problema Che quella gamba sta risolvendo Quando voi risolverete quel problema In maniera diversa Non dovrete più rompervi le gambe Ammalarvi, eccetera Questo è il concetto di fondo È molto semplice come principio Cioè Andate per retro tecnologia C'è un problema Se non lo risolvete voi Qualcun altro lo risolve per te Cioè il vostro personaggino interno Che è adibito a fare questo Vi risolve il problema A modo suo A me mi hanno fatto perdere mezzo milione d'euro Qualche anno fa Per risolvermi il problema Poi di certo Potevi risolvere in un'altra maniera Eh però Quello lui sapeva Se l'avessi risolto io L'avrei risolto in un'altra maniera Io non l'ho voluto fare Ho fatto finta di non vedere E lui l'ha risolto a modo suo Con quello che sapeva Per quello che aveva Ma ha stroncato E in realtà il problema l'ha risolto Me ne ha creati altri Ma Quel problema lì l'ha risolto Io ero totalmente fuori strada E poi sono ritornato sulla mia strada Con dei problemi da risolvere Ma sti cazzi Cioè Quei problemi lì Sono niente rispetto a quello Di essere fuori dalla mia strada Quindi Ci sta Grazie a tutti